Buonasera, è venuto a presentarmi perché la aula è molto importante, però vedo che è una cosa che è molto importante, è un sito di un uomo, ma io ho fatto un'intera, e abbiamo piaciuto, questo lo dico, a noi, ma in terra, come un'indale, la famosa amministrazione, di ospitare questa manifestazione, questa cerimonia, perché davvero ci viene per l'autorio che ci mette nelle condizioni di iniziare un percorso. Io devo di assoluto ringraziare quello che ha voluto fortemente questa manifestazione, e quindi devo ringraziare tante quali con il nostro concittadino, quali con il nostro abbraccio, il proprio familiare che in quanto ho lavorato ci ha insistito tanto, e io ho appunto, e ringraziamo il nome di tutti, e credo che in questa iniziativa abbia molto, come dite, il nostro spirito gioiore per l'analità consapevole del concetto. Io credo che questa manifestazione tenta di diventare un affinamento servizio e sistemato, in modo da dare davvero la possibilità a quanti vogliono recensarsi in questa arte, che si chiamano così in un altro senso, e far vivere in noi lo spirito gioioso di tutti gli occhi. Davvero, vi ringrazio tutti, io e soltanto un saluto, e passo direttamente la parola al professor Sbaveriano, che iniziamo così con l'organizzazione. Magari, se è opportuno, se possiamo anche fare delle dentistiche, in modo da partecipare tutti, e da partecipare, che tutti possano partecipare a questo evento. Vi ringrazio per la parola di te e grazie a tutti. Grazie.